Testi antichi, numeri criptici, immagini simboliche, che rappresentano meravigliosi eventi apocalittici. Per molti la Bibbia e le sue profezie sono avvolte dal mistero. Termini come Armageddon e tribolazione spaventano milioni, mentre altri cercano come evitare il marchio della bestia o non essere lasciati indietro quando il Signore tornerà. Possiamo capire la Bibbia? Sì, e Gesù ci ha dato le chiavi per svelare il futuro senza paura. Seguiteci su Amazing Facts che presenta Il Codice delle Profezie con Doug Batchelor. Lo studio di oggi è Lo Stagno di Fuoco. Buonasera amici, benvenuti da qualsiasi posto voi arriviate. È una serata davvero calda, nessun doppio senso, dato che il nostro tema di stasera è Lo Stagno di Fuoco e vi dico ancora che è l'unico stagno in cui non vorrei nuotare. Potete dire Amen? Ma sono felice che vi siate sintonizzati perché la parola di Dio è piena di versi della Bibbia e testi che ci ricordano quanto sia importante questo argomento e soprattutto pieno dell'amore di Dio. Stasera voglio che chieniate la testa con me mentre invitiamo la presenza del Signore tra di noi. Padre Celeste, ti ringraziamo per l'amore che troviamo ogni mattina quando ci svegliamo, un amore che è inesauribile, un amore che è eterno, un amore che è incondizionato, ma anche un amore che ci trasforma e ci trova, ci accetta come siamo, ma che non ci lascia allo stesso modo in cui ci ha trovati. Stasera mentre studiamo la parola di Dio possa il tuo spirito discendere così che le nostre menti siano libere, così che le parole dette dal pastore Doug Batchelor siano consacrate dalla presenza del tuo spirito. Preghiamo nel meraviglioso nome di Gesù. Amen. Colui che ha benedetto i nostri cuori ogni sera rimanendo fedele alla parola di Dio, il nostro presentatore, direttore, eratore e presidente di Amazing Facts. Diamo il benvenuto a Doug Batchelor. Grazie mille John. Buonasera, come state tutti? Abbiamo un tema emozionante stasera. Parleremo dello stagno di fuoco tra poco e abbiamo una lezione che corrisponde al nostro studio di stasera che si intitola Il diavolo è a capo dell'inferno e vi dirò qualcosa di più a riguardo, a breve. Ho fatto sempre di fretta il momento delle domande e voglio dedicargli un po' più di tempo stasera per cercare di rispondere a quante più domande possibili. Girati, ecco. È così che funziona? È questo il piano. Va bene, passiamo direttamente alle domande. Il diavolo sa leggere la mente? No. La Bibbia ci dice, credo in Seconda Re 839, Salomone nella sua preghiera di dedicazione dice che Dio e Dio solo conosce il cuore di ognuno. Una delle caratteristiche da cui sappiamo che Gesù è il figlio di Dio è che conosce il cuore dell'uomo. Spesso leggeva la mente della gente, sapeva cosa pensavano e rispondeva a quello che avevano nel cuore. Il diavolo può mettere un pensiero nella vostra mente. Io posso mettere dei pensieri nella vostra mente mentre parlo. Lui può mettervi delle tentazioni nella mente, ma non sa cosa c'è nella vostra mente. Qualche volta può guardare il vostro linguaggio del corpo. È un esperto insieme ai suoi demoni nel leggere il vostro linguaggio del corpo e le espressioni per capire se le sue tentazioni stanno facendo effetto, ma non può leggere nella mente. Solo Dio può farlo. Ora, in relazione a questa domanda, qualche volta la gente dice, beh, allora forse dovrai pregare a bassa voce in modo che il diavolo non sappia per cosa sto pregando. No, va bene andare nell'armadio e chiudersi in preghiera intima, ma non abbiate paura di pregare ad alta voce perché Satana trema quando pregate. Amen? A che età Cristo giudica che i nostri bambini siano responsabili? In relazione a questa domanda abbiamo moltissime persone che vogliono sapere quale sia l'età giusta per il battesimo, perché ovviamente quando raggiungono la maggiore età sono abbastanza adulti per essere perduti, ma sono anche abbastanza grandi per essere salvati, quindi sarebbe la stessa età. Non viene data un'età precisa nella Bibbia. Alcuni hanno detto che Gesù è stato consacrato e è andato al Tempio all'età di 12 anni, quindi questa dovrebbe essere l'età, ma non si dice davvero che c'era un tempo per il battesimo. Non vorrete farli aspettare i 30 anni, Gesù è stato battezzato a quell'età. Il vero criterio che i bambini diversi maturano ad età diverse hanno bisogno di essere abbastanza grandi per capire i concetti basilari della salvezza. Dovrebbero avere una personale relazione con Gesù. Ogni evangelista potrebbe dire un'età differente. Penso tu avessi quanto? 9 anni quando sei stata battezzata? Sembra un po' presto. Pensi di essere stata un po' piccola? Eri piccola, ripensandoci ora. Nostro figlio Steven è stato battezzato quando? A 10? A 10 anni. Sai che le ragazze sembra che capiscono un po' prima dei maschi di solito e quindi quando sono in grado di capire, quando hanno la loro vita spirituale, ecco come il Signore, Lui guarda nei cuori, giusto? Quanti di voi conoscono adulti che a causa di qualche handicap mentale non hanno mai raggiunto quell'età? Sapete di che parlo? Dio le giudicherà perché hanno superato i 12 anni e quindi sono responsabili? Guarderà nel loro cuore. Perché dovremmo andare in chiesa? Viene da Harrington, ha mandato tante domande così sarà felice che abbiamo la possibilità di rispondergli. Dice perché dovremmo andare in chiesa? Significa che non si è davvero cristiani se non si va? Mio padre è un grande uomo, ma sono confuso. So che lo vedrà se rispondete nel vostro programma e vorrei che ci andasse, quindi per favore rispondete alla mia domanda. Spero di non causare nessun problema familiare qui. Harrington, speriamo di non metterti nei guai. Beh, prima di tutto alcune persone pensano che il sabato sia solo un giorno di riposo, ma nella Bibbia è chiamato Santa Convocazione e la parola Convocazione significa assemblea, riunione e quindi è un momento non solo per riposare, per avere del tempo personale con Dio, ma soprattutto un momento di comunione e di preghiera in cui ci si incontra e si prega il Signore. In realtà la parola chiesa e sinagoga significano assemblea e quindi abbiamo bisogno di riunirci, Ebrei capitolo 10, non abbandonando la nostra comune adunanza, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Il giorno si sta approssimando, amen? Dobbiamo riunirci. Quando lo Spirito è stato effuso, non dimenticatelo, erano una sola mente nello stesso luogo. Lo ha effuso collettivamente. Dove nella Bibbia si dice che è stato Gesù a scrivere dieci comandamenti e non Geova? Non c'è nessun passo che dice che Gesù ha scritto dieci comandamenti. La Bibbia ci dice che è stato il Signore a dire queste parole e poi leggete nel Nuovo Testamento che Dio affidò tutta la creazione a Gesù. Il Vangelo di Giovanni capitolo 1 dice tutte le cose, quante cose? Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta, inclusi dieci comandamenti. Ora credo che Dio, Padre, Figlio e Spirito abbia partecipato, ma credo che sia stato il dito di Gesù che ha inciso quelle parole. E in quella domanda percepisco che c'è della confusione. Si dice come si fa a sapere che sia stato Gesù e non Geova? Vi farei questa domanda. Cosa vi fa pensare che Gesù non sia Geova? Quando guardate le definizioni di Gesù nella Bibbia si dice che Geova è il nostro unico salvatore. Gesù non è chiamato il nostro unico salvatore? Solo Geova conosce i pensieri del cuore dell'uomo, l'ha appena citato, si traduce con Geova. Gesù conosce i pensieri del cuore dell'uomo? All'inizio Geova ha creato il cielo e la terra. Gesù ha detto che tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. Dio Padre ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù e quindi le persone pensano che qualche volta Gesù non sia Geova, ma è un concetto sbagliato. Come sappiamo che i simboli della Bibbia siano davvero usati per indicare le spiegazioni che ci sono date? Dalla leggenda dei simboli della Bibbia? Ok. Prima di tutto la leggenda dei simboli della Bibbia. Per coloro che ci stanno guardando, se andate sul sito prophecycode.com c'è un link per poter scaricare i simboli della Bibbia con i loro significati. Ci sono anche tutti i versetti di riferimento e vi aiuta a trovarli. Per esempio c'è la spada, il significato spirituale. La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli. Ebrei Efesini 6, la spada dello spirito che è la parola di Dio, quindi sappiamo che la parola ha come simbolo la spada. Cos'è l'agnello? Giovanni Battista ha detto Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Chi è il drago? Apocalisse 12, il gran dragone, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana. E quindi potete mettere in relazione versetto dopo versetto e trovate i significati. La Bibbia si interpreta da sola. Hai detto che non credi che l'evoluzione sia scientifica. Come può essere che così tanti scienziati la promuovano? Grazie e che Dio ti benedica. Sapete che c'è stato un tempo in cui gli scienziati nel mondo dicevano che la terra era piatta. Gli scienziati sono umani. E ci sono anche molti scienziati che credono nella creazione. Io credevo nell'evoluzione. Non potevo torturare la mente continuando a crederci. Non volevo credere in Dio perché, sapete, un motivo per il quale penso che molti vogliano credere nell'evoluzione è che se tutto è accaduto spontaneamente, allora siamo Dio e non c'è un creatore responsabile. E penso che ci sia un protocollo segreto che cerchi di cancellare Dio e la sua responsabilità. Ma ci sono troppi miracoli attorno a noi perché neghiamo l'intelligenza necessaria per progettare questo universo e il nostro mondo e il funzionamento combinato tra le creature e la diversità. È così non scientifico credere. Sapete, se una persona vuole credere in qualcosa, può farlo. Se una persona si convince abbastanza, ma la prova è così potente. Se studiate l'evoluzione, troverete che manca il collegamento intermedio tra le grandi varietà di specie. Hanno cercato di spiegare il grande salto tra i mammiferi e i rettili e gli uccelli e stanno cercando disperatamente in tutto il mondo per trovare dei collegamenti intermedi. Non li hanno ancora trovati. Qualche volta trovano un dente o altro e dicono, sì, l'abbiamo trovato, penso che l'abbiamo trovato. Non è lì. Dio ha fatto ognuno secondo la sua specie. Sono tutti separati e distinti. Hai detto che Gesù potrebbe venire in questa generazione. Quando inizia e quando finisce questa generazione? Non stabilirò una data per la venuta di Gesù. Sto usando la parola generazione in senso filosofico. Una generazione è il tempo in cui si vive. Biblicamente una generazione è di 40 anni. Non sto dicendo che verrà tra 40 anni. Ovviamente tra 40 anni da ora probabilmente non mi interessa. Se me lo chiedete per allora ve ne sarete dimenticati. Ma non stabilirò una data. Sto solo dicendo che credo fermamente che pochi di noi moriranno vecchi. Questo è ciò che credo. Penso che Gesù verrà presto in base alle prove che vedo e i segni che ci ha dato nella sua parola. Gli eventi finali potrebbero accadere in qualsiasi momento ora. Va bene. Matteo 16, 17, 18, 19 vengono usati come prova che Pietro fosse il primo papa e anche come base dalla Chiesa Cattolica per il perdono dei peccati. Cosa voleva dire Gesù quando ha detto a Pietro ti darò le chiavi del regno dei cieli? Beh, prima di tutto l'idea che Gesù abbia affidato la vita eterna nelle mani di un pescatore che negherà persino di conoscerlo pochi giorni dopo penso sia una credenza azzardata. Pietro era il più instabile dei dodici discepoli e cioè io amo Pietro e posso identificarmi con lui e credo che fosse un apostolo ispirato. Ma l'idea che gli siano stati affidati l'accesso al cielo e le chiavi del regno dei cieli ha affidato le chiavi a tutti i credenti, nel senso che se presentate le chiavi sono usate come simbolo qui, se presentate la verità, la verità vi farà liberi. Se guardate l'Apocalisse Gesù ha detto sono colui che ha le chiavi. Non dice che è Pietro, lo abbiamo letto nel nostro studio precedentemente stamattina e quindi è una convinzione pericolosa e penso che stia anche alludendo al punto in cui Pietro ha detto sei il figlio di Dio e Gesù risponde tu sei Pietro e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa e spesso è usato per dire che questa è stata la sua dichiarazione che stava costruendo la sua chiesa su Pietro. Davvero abbiamo un grosso problema se è costruita su questo pescatore che era così instabile. Sta costruendo la chiesa su un'affermazione che Pietro ha fatto quando ha detto sei il Messia, il figlio di Dio. Gesù ha detto sei Pietro e la parola Pietro che usa è Petros, una pietra rotolante che viene sbattuta sulle onde. Ma continua a dire su questa petra, roccia, una parola diversa, Petra è una roccia di proporzioni immense come l'Alf Dom nel parco di Iosemite o Gibilterra. Sta dicendo su questa pietra che io sono il Messia edificherò la mia chiesa, non su Pietro, che cammina sulle acque e si guarda indietro e affonda nelle onde. Spero non stia costruendo la sua chiesa su questo. Rinegando Gesù? Sì, la negazione di Gesù. E più tardi Paolo dovette riprenderlo perché un giorno dice di credere come i gentili e il giorno dopo è dalla parte degli ebrei. No, spero di no. In una delle lezioni abbiamo imparato che Gesù è morto sulla croce nel 31 d.C. Più tardi hai detto che il Tempio è stato distrutto nel 70 d.C. Hai detto che la distruzione del Tempio ha posto fine al sistema sacrificale. Quindi stai dicendo che dopo la morte di Gesù nel 31 d.C. hanno continuato a fare sacrifici per altri 39 anni? Sì, ricordate quando abbiamo studiato la profezia dei 490 anni? È vero che Gesù è stato crocifisso nel 31 d.C. Quando è stato crocifisso le vostre Bibbie lo dicono c'è stato un terremoto, il velo del Tempio si è squarciato. Ciò ha causato la fine dei sacrifici quell'anno. Il sacrificio della Pasqua si è interrotto completamente. Non è in dubbio che probabilmente abbiano riparato i danni e ripreso il sistema sacrificale fino alla distruzione del Tempio nel 70 d.C. Ma non dimenticate che l'ultima volta che Gesù ha lasciato il Tempio ha detto ecco la vostra casa vi ha lasciata deserta, ancora lì ma deserta. È come nel libro di Samuele, Iqabad, la gloria se n'è andata. Ecco cosa vuol dire. E quindi sì, c'era l'involucro e facevano tutte le funzioni, ma il potere di Dio, la sua protezione, se n'erano andati. Buonasera amici. Studieremo un argomento che penso troverete molto liberatorio, molto importante. Come ho detto pochi minuti fa, ovviamente come i nostri studi della Bibbia, lo stagno di fuoco dell'Apocalisse. Si trova in Apocalisse capitolo 20 e una parte del capitolo 21. Abbiamo una guida per lo studio che ci accompagna. Il diavolo è a capo dell'inferno? Una guida per lo studio molto interessante. Vorrei iniziare condividendo alcuni fatti interessanti con voi. Chi di voi sa dov'è il punto più basso della terra? È chiamato il sotterraneo della terra, è il Mar Morto, che fa parte della terra della Bibbia. Oltre 400 metri sotto il livello del mare. Ci sono stato in precedenza, fa molto caldo, si sente persino la pressione atmosferica più alta rispetto al livello del mare. È molto diversa. Non so se ve l'ho mai detto, ma sono un pilota e quindi quando ho iniziato a salire di quota ho sentito il calo di pressione. Potete sentirlo nei polmoni, ma ricordo distintamente quanto fosse più pesante. Per anni la gente si è chiesta se il Mar Morto avesse una fenditura da qualche parte perché l'acqua del fiume Giordano esce dal Mar di Galilea e scorre nel fiume Giordano fino al Mar Morto, ma nulla esce dal Mar Morto. Prende e non dà mai, che potrebbe essere il motivo per cui è morto. Una lezione per tutti noi, giusto? In realtà hanno mandato un luogotenente della marina una volta, il capitano Lynch. Hanno fatto delle esplorazioni e hanno scandagliato per trovare una fenditura senza fine attraverso cui l'acqua fluiva verso il centro della terra. Ma no, il fondale era compatto, semplicemente l'acqua evapora più in fretta di quanta ne arrivi, perché è circa 76 chilometri di lunghezza con una media di 17 chilometri di larghezza, uno dei luoghi più caldi, secchi e desertici del mondo. Poco più. A sud del Mar Morto ci sono delle interessanti terre dal brutto aspetto. Ci sono queste colline di allume di potassio e argilla compressi e incastonato tra queste colline. C'è qualcosa che si trova lì e in nessun altro luogo del mondo. Ci sono queste palle di zolfo. Una volta parlavo con qualcuno del fatto che potesse dimostrarlo. L'ho fatto in realtà. Una volta basta prendere un fiammifero. Ne ho qui uno, ma non lo farò. Si può prendere un fiammifero. Qualcuno di voi ha mai bruciato dello zolfo? Di cosa sa? Di uova marce. Io l'ho fatto una volta, ma ho imparato la lezione. Se ne sono andati tutti dall'incontro, no. Ma puzza un bel po'. Dopo potete venire ad annusarlo se volete. In realtà non metterei le mie dita vicino al naso ora. Ma queste palle di zolfo sono infiammabili, altamente infiammabili. Penso che uno dei miei amici, voglio ringraziare Andrew, John, Richard e altri che me l'hanno mandata, ieri sera hanno fatto una foto di una delle sfere che bruciava e me l'hanno mandata dicendo non dargli fuoco Doug, lo faremo noi per te fuori e ti manderemo una foto. L'hanno fatto per me in California. Ne hanno messo una uguale accanto per fare vedere la fiamma blu di quella che bruciava. Sono nascoste in quella lume di potassio là. Come pensate che ci siano arrivate? Vi racconterò la storia. Genesi 13,13. La Bibbia dice, or la gente di Sodoma era grandemente depravata contro l'Eterno. E di conseguenza dopo anni di pazienza, Dio mandò due angeli a Sodoma e penso vi ricordiate come furono trattati malamente. Andarono a casa di Lot. Lot era il nipote di Abramo che stava pregando. Lo zio Abramo stava pregando per Lot perché sapeva che Sodoma sarebbe stata condannata. Ed essi dissero, fuggi dalla città, sto parafrasando, fuggi per salvare la tua vita, non voltarti, scappa verso il monte così che tu non abbia a perire. A meno che tu non voglia essere bruciato vivo. Ed egli andò a far visita alle nuore e alla famiglia e disse, Dio mi ha detto che questo posto è condannato, andatevene ora dalla città. Ed essi lo presero in giro, come se fosse un fanatico religioso. Potrebbe succedere di nuovo? E alla fine gli angeli dissero, non possiamo aspettare oltre. Fuggi per salvare la tua vita, che tu non abbia a perire. E la Bibbia dice che se ne andò dalla città e allora l'Eterno fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra, zolfo e fuoco da parte dell'Eterno. Scendeva dal cielo. Ed evidentemente questo è proprio il luogo dove si trovano queste palle di zolfo incastonate lì. Alcune di esse arrivarono infuocate e si spensero all'impatto e sono ancora lì oggi. È una cosa affascinante, no? L'unico posto dove si trovano delle cose del genere. Sapete che Gesù ha detto, parlando degli ultimi giorni, come ai giorni di Lot. In realtà ce l'ho qui, Luca 17, 28. Lo stesso avvenne anche ai giorni di Lot. La gente mangiava, beveva, comperava, vendeva, piantava ed edificava, ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma. Le farfalle volavano di fiore in fiore, gli affari andavano come al solito e la gente si svegliava e preparava il caffè e faceva tutto quello che faceva ogni giorno. Sembrava un altro grande giorno. E poi all'improvviso cambiò tutto. Gesù disse come fu ai giorni di Noè. Un altro bellissimo giorno e poi cambiò qualcosa all'improvviso. Sapete una cosa che mi ha colpito nell'11 settembre? Era un giorno bellissimo. E penso che qualche volta viviamo nell'illusione che Dio ci mandi un avvertimento in anticipo. Lo ha fatto, si chiama Bibbia e vuole che la ascoltiamo. La Bibbia dice che la gente mangiava, beveva, comperava, vendeva, piantava ed edificava, ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma piove dal cielo fuoco e zolfo. Gesù usa le stesse parole. Le fece perire tutti. Così sarà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno chi si troverà sul tetto della casa non scenda in casa a prendere le sue cose. Così pure chi si troverà nei campi non torni indietro. E poi Gesù usa queste parole solenni. Ricordatevi della moglie di Lot. La moglie di Lot. Aveva sentito l'esplosione o l'eruzione o il rumore dietro di sé. Forse il suo cuore desiderava le sue cose e i suoi figli. Non sappiamo cosa stesse succedendo, ma si voltò indietro e Dio aveva detto non voltarti indietro. Dio intende davvero quello che dice? Qualche volta pensiamo che dica ricordati del giorno di sabato e crediamo sia opzionale. Dio intende quello che dice. Si voltò indietro e cosa accadde fu trasformata in una colonna di sale. La Bibbia dice che Abramo dalla sua posizione di vantaggio a Hebron guardò verso Sodoma e Gomorra ed ecco vide un fumo che si levava dalla terra, come il fumo di una fornace. Dio non aveva detto ad Abramo di non voltarsi indietro, quindi egli si voltò e non gli successe nulla perché non lo sapeva. Sembrava una fornace. Alcuni si sono chiesti se fosse un'esplosione nucleare, ma no, fuoco e zolfo. Questo, se gli date fuoco, è zolfo. Ancora lì, oggi. Non è affascinante? Ora, quando pensiamo al fuoco e allo zolfo, quale argomento della Bibbia ci viene in mente? L'inferno. Ed è il nostro argomento di oggi. Il fuoco dell'inferno, che è esattamente lo stesso dello stagno di fuoco che trovate nell'Apocalisse. Alcuni hanno cercato di separare le due cose. È lo stesso tema che studieremo. La Bibbia ha molto da dire, non solo sulla ricompensa celeste. Abbiamo uno studio in arrivo sulla Nuova Gerusalemme, vi piacerà molto. Ma abbiamo anche uno studio su qualcosa che è nell'Apocalisse, che è nelle profezie, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, che parla della punizione dei malvagi. È una verità che fa riflettere e dobbiamo esserne consapevoli. Dio vuole che lo evitiamo, ma vuole anche che sappiamo che il modo in cui tratta i peccatori è amorevole. L'amore di Dio traspira da questo argomento. Entriamo nel vivo dello studio. Domanda numero uno. Quante anime perdute vengono punite oggi all'inferno, secondo la Bibbia? Risposta seconda Pietro 2,9. Il Signore sa liberare i pi dalla prova. I pi sono liberati e riservare gli ingiusti per essere puniti nel giorno del giudizio. Dove sono gli ingiusti? Riservati. Qualcuno di voi ha mai riservato qualcosa? Vuol dire che qualcosa è tenuto da parte per voi. Non volete che vi riservino questo. Ma gli ingiusti sono riservati, sono messi da parte fino al giorno della punizione. E ancora, Giovanni 12,48. La parola che ho annunziata, dice Gesù, sarà quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Giovanni 12,48. Abbiamo letto molto su Giovanni capitolo 6 oggi, vero? Quando saranno puniti, ricompensati, giudicati? L'ultimo giorno. Quante persone ora bruciano all'inferno? Nessuna. O alcuni di voi saranno innervositi e diranno, pastore Doug, mi stai dicendo che non credi nel fuoco dell'inferno? Certo che credo nell'inferno se questo vi rende felici. Ci credo. Credo che i cattivi bruceranno. Per gli amici battisti che volevano sentirlo. Mio padre era battista. Oh, la prima volta sono stato battezzato in montagna. Ricordate quell'argomento? I battisti. Quindi capisco che sia una cosa molto essenziale. Ci credo davvero. Ma ancora nessuno sta bruciando. Secondo la Bibbia, perché il Signore dice che sono riservati, non sono ancora giudicati. La risurrezione non ha ancora avuto luogo e nemmeno la risurrezione di condanna. Numero due. Quando i peccatori saranno gettati nel fuoco dell'inferno, secondo la Bibbia, quanti di voi ricordano la parabola di Gesù che racconta del contadino che aveva un nemico che spargeva zizzagna in mezzo al grano? E in quella parabola si dice che prima verrà raccolta la zizzagna, legata in fascina e bruciata. Matteo 13, 40. Dove potete trovarlo? E poi quando Gesù spiega questa parabola, dice in Matteo 13, 40, 42, così avverrà alla fine del mondo. Quando? Alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli ed essi raccoglieranno gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco. Saranno gettati nel fuoco dell'inferno, nel lago di fuoco, nella fornace di fuoco, la potete chiamare come volete. Quando? Alla fine del mondo. Quando saranno radunati e saranno inflitte le punizioni. Quindi quanti stanno bruciando all'inferno ora? Nessuno ora sta bruciando all'inferno. Domanda numero tre. Dove sono ora i peccatori che sono morti se non stanno bruciando? Ci sono molti paesi, ce lo dice la Bibbia. Giovanni 5, 28, 29. L'ora viene in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce. Sta arrivando. I malvagi infatti sono risparmiati. Giobbe 21, 30. I malvagi infatti sono risparmiati nel giorno della distruzione. Sono riservati proprio come ha appena detto Pietro. E di nuovo egli ha portato alla sepoltura e si farà la guardia sulla sua tomba fino a quando? Al giorno del giudizio. È riservato alla tomba fino al giorno del giudizio. Se è chiaro, per favore dite Amen. Ok, numero quattro. Qual è il risultato ultimo del peccato? Ora aspettate un secondo se non vi dispiace. Mi è venuto in mente un altro versetto, spero sia lo Spirito Santo. Daniele capitolo 12. In quel tempo sorgerà Michael, il gran principe, il difensore dei figli del tuo popolo. E ci sarà un tempo di angoscia come non c'era mai stato da quando esistono le nazioni fino a quel tempo. In quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro. Molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno. Quando Michael sorgerà ci sarà un tempo di grande angoscia, di risurrezione. Molti di coloro che stavano dormendo nella polvere della terra si risveglieranno. Alcuni per vita eterna, altri per vergogna e infamia eterna. Quando l'avranno i malvagi? Quando sorgerà Michael nel grande tempio dell'angoscia che è sinonimo delle piaghe alla fine del mondo. Numero quattro. Qual è il risultato ultimo del peccato? La Bibbia ci dice che la punizione del peccato è la morte. Giacomo 1,15 lo conferma. Il peccato quando è consumato genera cosa? La morte. Quanti lo conoscono? Giovanni 3,16 lo sapete a memoria? Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ora questo è quello per cui le persone diranno ah ah proprio in questo momento ci sono due destini per ciascuno. Due strade. Ci sono due scelte. Ci sono due maestri. La vita e la morte. Il bene e il male. Cristo e il diavolo. O la vita eterna o la morte. Non è la vita eterna in paradiso e la vita eterna all'inferno. La vita o la morte è la scelta che ci offre. I malvagi saranno puniti nel fuoco dell'inferno? Sì. Per quanto tempo? Ci arriveremo tra un minuto. Ancora Romani capitolo 6. Cosa dice Paolo? Il salario del peccato è cosa? La vita eterna nel fuoco. Dice così? Il salario del peccato è la morte ma il dono di Dio è la vita eterna. Il dono non andrà a tutti solo ad alcuni. La vita eterna è per tutti. La prima bugia che il diavolo ha detto a Eva qual era. Non morrai affatto. Vivrai per sempre all'inferno. Vivrai per sempre in paradiso ma sei immortale. Abbiamo guardato tutti i passi stamattina che parlano dell'immortalità. Ne abbiamo trovato uno? Ho chiesto a tutti i presenti nessuna proposta. Giusto? C'è solo un passo della Bibbia che dice che ora abbiamo l'immortalità. Nemmeno uno. Dio ha detto morrai. Il diavolo ha detto no, non morirai. La tragedia è che ci sono tanti capi cristiani che ripetono la bugia del diavolo. Perché pensate che Dio abbia detto ad Adamo Genesi 3.22 inseguiti e cacciati dal giardino dell'Eden? Ora non bisogna permettergli di stendere la sua mano per prendere anche dal labbro della vita perché mangiandone non è viva per sempre. Dio dice non vivrà per sempre, non lo permetterò perché non renderò immortale un peccatore. Dio non vuole rendere immortali i peccatori saranno sterminati, puniti ed eliminati dall'universo. Avrà un universo puro. Tutto questo concetto deriva da insegnamenti medievali. Sapete questo argomento, se non l'avete notato mi sono entusiasmato, parte della motivazione è che ho frequentato alcune scuole cristiane che lo insegnavano. E la mia idea di Dio era, voglio dire, mi era stato detto che se non si veniva battezzati da neonati e si moriva, quei bambini andavano all'inferno a bruciare, per l'eternità. O almeno in purgatorio a bruciare un pochino per sempre, ma siccome sono immortali potrebbero bruciare nel purgatorio e poi farcela. Questa idea che Dio avrebbe... ho sentito alcuni sermoni. Qualcuno non troppo tempo fa mi ha mandato un sermone, un ottimo predicatore, espressivo, nutro grande rispetto per lui. Il sermone si intitola Peccatori nelle mani di un Dio adirato. Qualcuno di voi ne ha mai sentito parlare? Jonathan Edwards? Cavolo! Fa accapponare la penne. Parla dei dannati, appesi sul fuoco dell'inferno su una ragnatela pronta a rompersi da un momento all'altro e farli precipitare nel fuoco eterno. E dopo aver nuotato in questa lava disciolta per mille anni, trovano il modo per arrivare in superficie e gridare, Signore, per quanto? Ed egli risponde, avete appena iniziato! E li spinge di nuovo sotto a bruciare ancora di più. Sto parafrasando, è davvero una traduzione grossolana, ma voglio dire, davvero, per molta gente questa è l'idea di Dio, che è sadico e che gode nel vedere le creature che ha creato, che hanno tendenze peccaminose, torturate per i secoli infiniti. Sapete quanto dura l'eternità? Potete immaginarvela, un miliardo di anni da ora a nuotare verso la superficie di un fuoco eterno? E Dio che dice avete appena iniziato. E venite ributtati indietro e bruciatevi, contorcete e gridate tutto il tempo. È una dottrina di demoni, viene dai secoli bui. Sapete, andavo a una scuola privata e facevano una recita scolastica e mia madre faceva la regia, si occupava sempre del teatro. Ed era sulla mitologia greca. Si può fare una recita scolastica sugli dei greci, ma non è permessa una recita scolastica su Gesù. E io ero Plutone. Probabilmente ho recitato bene Plutone. Non Pluto di braccio di ferro, ero Plutone, il Dio dell'Ade. Avete sentito nella mitologia greca di Plutone il Dio dell'Ade che aveva il cane infernale? Avete sentito l'espressione cane infernale? Dov'è? Nella Bibbia viene dalla mitologia greca e molti di questi concetti sul diavolo e capo dell'inferno e l'Ade vengono tutti dalla mitologia e si sono fatti in strada nella Chiesa. Ricordate che abbiamo imparato che molte tradizioni pagane sono entrate a far parte della Chiesa. Le cose hanno iniziato a essere alterate, ma è stato un vantaggio. I capi religiosi si sono accorti che la paura era un meccanismo molto potente, che si possono motivare le persone a ottenere offerte migliori usando la paura. E hanno avuto molto successo. Meglio che torni alla mia lezione. Se l'idea che la punizione per il peccato è il tormento eterno, Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati. Se la punizione per il peccato è di bruciare per l'eternità, Gesù non ha pagato la sua pena. La punizione per il peccato è la morte. È morto? Ha pagato la sua pena. Tutto il concetto che la punizione per il peccato è il tormento eterno, Gesù non ha pagato per la nostra punizione. E allora siamo tutti nei guai. Ma egli è morto davvero? È come in Daniele. La punizione per aver disobbedito al comando del re era la morte. Il re l'ha messo nella fossa dei leoni, gli ha fatto passare una notte, l'ha tirato fuori e ha detto ho rispettato la legge. Visto che la legge era stata rispettata, ci ha gettato i nemici di Daniele. E i leoni se li sono mangiati. Daniele è uscito vivo, non c'è stato per sempre. Numero 5. Cosa succederà ai malvagi nel fuoco dell'inferno? La Bibbia ci dice in Salmi 37, 10, 20. Ancora un po' e l'empio non sarà più, ma gli empi periranno, saranno consumati e andranno in fumo, saranno bruciati. Poiché ecco, Malachia 4, 1, conoscete questo versetto, poiché ecco il giorno viene ardente come una fornace e tutti quelli che operano impiamente saranno come stoppia. Quanti di voi hanno mai fatto i contadini? Sapete cos'è la stoppia? Dopo avermi tutto il riso ci sono quei piccoli steli che sono stati tagliati, si chiamano stoppie, si bruciano senza fiamma ed è tutto quello che rimane. Saranno come stoppia, il giorno che viene li brucerà, dice l'Eterno degli eserciti, in modo da non lasciare loro né radice né ramo. Malachia 4, il giorno che viene li brucerà. Ditolo con me, sta parlando dei malvagi. Il giorno che viene li brucerà. Cosa dice li brucerà? Tutto è andato, dovete alzare la voce quando lo dite. Vi mostrerò un'immagine sullo schermo, qualcuno di voi sa da dove viene? Pompei ci sono stato. Ai piedi del Vesuvio era molto più alto, come il monte Sant'Eliens. C'era questa Las Vegas romana, era un lossureggiante porto di mare per la gente in vacanza. E le città di Pompei ed Ercolano furono devastate durante un terremoto nel 68 d.C. circa, ma la montagna rivelò la sua identità di vulcano nel 78 d.C. Quello che molti non sanno, e ovviamente hanno trovato almeno 2000 corpi finora, ma non hanno ancora finito di scavare. Alcune persone sono state trovate, alcuni gladiatori ancora con le catene e molti soldati romani persero la vita in quel momento. Un fatto sconvolgente che molte persone non sanno è che la legione di soldati che lavoravano sotto il generale Tito, che poi venne l'imperatore che distrusse Gerusalemme e saccheggiò il Tempio nel 70 d.C., erano in vacanza come ricompensa per i loro servizi. Ci volevano anni per muoversi all'epoca, non c'erano gli aerei. E morirono. I soldati che avevano distrutto Gerusalemme e il Tempio erano lì, quando il vulcano è eruttato. È interessante pensarci. Cos'altro dice la Bibbia sulla punizione dei malvagi? Ma per i codardi, gli increduli, gli immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Non so, forse dovrei accenderlo dopo il programma. Se volete venire fuori a sentire l'odore dello zolfo, si spera non lo dobbiate ma è scoprire nell'altro modo, vero? Ok, se volete saperlo faremo così. Numero 6. Quando, dove e come sarà piccato il fuoco dell'inferno? Risposta Matteo, parla Gesù, capitolo 13, 40, 42. Così avverrà alla fine del mondo il figlio dell'uomo e li getteranno nella fornace del fuoco. E ancora Apocalisse 29 dice, esse si muoveranno su tutta la superficie della terra. Questo è un argomento su cui parleremo di più domani sera, quando studieremo il millennio dell'Apocalisse, capitolo 29, quando il diavolo sarà incatenato. Esse si muoveranno su tutta la superficie della terra e circonderanno il campo dei santi e la diletta città. Ma dal cielo scenderà fuoco, mandato da Dio e le divorerà. Non sembra un po' come quello che abbiamo letto su Sodoma e Gomorra. Sapete, gli autori della Bibbia ci dicono che quello che è successo a Sodoma e Gomorra è un esempio di quello che succederà gli ultimi giorni e di come Dio si occuperà dei malvagi. E proseguiamo, Proverbi capitolo 11, 31. Ecco il giusto riceve la ricompensa sulla terra. Ricordate quando Gesù ha detto ai Mansueti rediteranno cosa? Come adesso, una terra nuova, creerò un nuovo cielo e una nuova terra. Ecco il giusto riceve la ricompensa sulla terra, tanto più l'empio il peccatore. Non so se l'avete colto, abbiamo appena letto questi tre passi sul fuoco dell'inferno. Dove brucerà l'inferno? Sulla terra, più nello specifico a Washington DC. Amen? Sapete, l'idea viene dalla mitologia greca. Di nuovo, sapete che Ade viveva sottoterra e da qui l'idea che il diavolo sia là sotto. Ricordo un giorno mentre camminavo fuori dal supermercato. Qualche volta cerco una scusa per andare al supermercato così leggo per divertimento tutte le copertine dei tabloid che riesco. Ricordo di essere andato al supermercato un giorno e di aver letto le trivelle del petrolio in Russia trivellano troppo a fondo e fanno scappare i demoni dall'inferno. Qualcuno di voi se lo ricorda? E ci sono dei predicatori che ancora predicano che là sotto, da qualche parte, il diavolo ha il suo condominio, a tutti i suoi uffici, ha sistemato tutto in queste caverne. Quando il diavolo è andato nel libro di Job, capitolo 1, quando è andato dal Signore e il Signore gli ha detto da dove vieni? Non ha risposto vengo da una caverna giù all'inferno e poi dalla terra. Ha detto dall'andare avanti e indietro sulla terra. Gli affari del diavolo non sono laggiù, sono qui su. È sulla terra e quel fuoco eterno pioverà sulla terra. Dio lo farà piovere sulla terra. Sulla terra circonderà il campo dei santi, giusto? Ecco cosa accadrà. Numero 7. Quanto sarà grande e caldo il fuoco dell'inferno? La Bibbia ci dice il giorno viene ardento e come una fornacea. Oh scusate. Ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi si dissolveranno consumati dal calore e la terra. Alcuni pensano che quando il Signore verrà come un ladro la vita proseguirà per altri sette anni. Sapete questo scenario di coloro che saranno lasciati dopo il rapimento segreto in cui il Signore arriva come un ladro e poi la vita prosegue per altri sette anni. Che cosa succederà secondo la Bibbia dopo che il Signore verrà come un ladro? Gli elementi si dissolveranno per via del calore coccente. Sapete si è capito che quando la bomba, la bomba atomica è stata sganciata su Nagasaki e Hiroshima anche le rocce bruciavano. Erano piuttosto calde. Seconda Pietro capitolo 3. La terra e le opere che saranno in essa saranno arse. Saranno arse per non lasciare nulla dei malvagi. Dio li purificherà. Il fuoco purifica. Sapete nella California settentrionale dove io e Karen abitiamo da vent'anni, ora periodicamente vediamo le foreste bruciare. Stavo tornando a casa in aereo non molto tempo fa. Volavo dalla baita sulle colline a sacramento sul nostro piccolo aereo e ho dovuto sorvolare alcune foreste in fiamme. Ho dovuto aggirare quella che sembrava una nuvola a forma di fungo e a causa del fumo riuscivo a malapena a respirare sull'aereo. E potete immaginare solo come sarà questo pianeta quando il Signore era a picchera a fuoco. Forse una cosa del genere. Questa in realtà è una foto del Sole con alcune macchie solare iperattive. Apocalisse 20, 14, 15. Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Aspetta un attimo, dicono alcuni, come può l'inferno andare all'inferno? Non è quello che dice? Ci sono molti malintesi sul significato della parola inferno o Hades nella Bibbia. Più di 54 volte nella Bibbia troverete che quella parola è tra... Mi sento come se imprecassi quando lo dico, ma è nella Bibbia. Inferno di solito vuol dire tomba. Ecco cosa vuol dire. Quindi significa che la morte e la tomba saranno gettate nello stagno di fuoco. Non ci saranno più la morte e la tomba, chiaro? Altrimenti non avrebbe senso. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Ora, la grande questione. Sapete come far sì che il vostro nome sia scritto lì? Avvicinatevi a Gesù e chiedetegli di togliervi i peccati col suo sangue e di mettere il vostro nome nel libro della vita. Abbandonatevi a Lui, non dovrete preoccuparvi dello stagno di fuoco. Numero 8. Per quanto tempo i malvagi soffriranno nel fuoco? Ora, alcune persone pensano che debbano bruciare per sempre. Gesù ha detto a Apocalisse 22, 12. Ecco, io vengo presto e il mio premio è con me, per rendere ad ognuno secondo le opere che egli ha fatto. Prima cosa, quando saranno ricompensati? Quando verrà? Come saranno ricompensati? Secondo quanto meritano. Tutti avranno la stessa ricompensa? Se tutti bruceranno per sempre, allora davvero non è giusto che Caino, che ha ammazzato una persona, suo fratello, 5.000 anni fa, bruci per 5.000 anni in più di Adolf Hitler. Sto ipotizzando che Hitler fosse un'anima perduta, va bene per voi? Non voglio giudicarlo o dire qualcosa per cui qualcuno se la prenda con me, ma sarebbe giusto? No, ovviamente no. E ognuno sarà ricompensato secondo le sue opere. E ancora, in Matteo 16, 27, dice, e allora egli renderà a ciascuno secondo il suo, cosa? Operato. Le sue opere siamo salvati mediante la grazia, ma saremo ricompensati secondo le opere perché le opere dimostrano se dovete essere salvati oppure no. Ecco perché Gesù ha detto perché mi chiamate Signore, Signore, non fate quello che dico. Luca 12, 47, 48. Ora quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non si è preparato e non ha fatto la sua volontà, riceverà molte battiture. In altre parole, se sappiamo cosa vuole Dio e non lo facciamo, saremmo puniti più severamente. Ma colui che non l'ha conosciuta, se fa cose che meritano le battiture, ne riceverà poche. Vi sembra giusto? Ecco cosa ha detto Gesù, si riceverà una ricompensa in base a ciò che si merita. Cristo ha detto, e non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima. Alcuni diranno, beh, le anime bruceranno per sempre all'inferno, i corpi saranno consumati. L'avete sentito dire prima d'ora? Sì, è vero, Doug, il corpo è tutto consumato e Dio farà un cielo nuovo e una terra nuova, ma le anime bruceranno per sempre. Che cosa abbiamo imparato sull'anima oggi? L'anima che pecca morirà. Cosa dice Gesù su ciò che accadrà all'anima all'inferno? E non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima. Poi continua dicendo temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna, entrambi. Numero 9, vi ripeterò il versetto più tardi. Il fuoco cesserà mai? La Bibbia dice Salmi 37, 10. Ancora un po' e l'empio non sarà più, gli empi periranno e i nemici dell'Eterno saranno consumati e andranno in fumo. E ancora Isaia 47, 14. Ecco, essi saranno come stoppia, il fuoco li consumerà, non salveranno se stessi dal potere della fiamma. Sono delle profezie, e questo è un incontro sul codice delle profezie, non ci sarà brace a cui scaldarsi né fuoco davanti al quale sedersi. Nessuno brace, nessun carbone si sono estinti e se avete dei dubbi Giuda dice proprio come Sodoma e Gomorra sono state poste davanti come esempio, subendo la pena di un fuoco eterno. Che tipo di fuoco? Eterno. Ora alcune persone diranno ecco Doug, il fuoco eterno brucerà per sempre. È quello che viene detto? Sodoma e Gomorra bruciano ancora oggi? Sono bruciate nel fuoco eterno ma sono state consumate. Cosa dice Sodoma e Gomorra sono state mai ricostruite? Erano 4.000 anni fa. Si può andare lì oggi e vedere che sono ancora cenere. Sono state bruciate dal fuoco eterno, le conseguenze del fuoco sono eterne. Non vuol dire che stiano ancora bruciando. Erano città, non persone. Voglio dire l'idea che Dio brucerà le città per sempre è persino più assurda. A volte ci sono dei passi della Bibbia, per esempio è Apocalisse 14, 11, in cui si parla dell'espressione nei secoli dei secoli. La gente si confonde. Vi sto dando un piccolo campione delle migliaia di passi nella Bibbia che spiegano che i malvagi saranno, ripetiamolo, consumati, divorati, bruciati, ridotti in fumo, periranno. Non ci saranno più. Queste sono alcune delle espressioni che usa la Bibbia, distrutti. Voglio dire, se foste il Signore e voleste usare dei sinonimi per comunicare il fatto che i peccatori saranno sradicati, annientati, bruciati, distrutti, eliminati, non ci saranno più. Quali parole usereste? Abbiate pazienza, non so se qualcuno di voi abbia mai visto il mago di Oz, ma quando stavo preparando a questo studio, mi sono venute in mente alcune parole del Munchin. Ma bisogna verificarlo legalmente, parlo di quando la strega cattiva è morta, per capire se è morta amoralmente, eticamente, spiritualmente, fisicamente, positivamente, assolutamente, innegabilmente, in maniera affidabile. Non è solo morte, è proprio morta veramente. È così, per qualche ragione mi è venuto in mente quando stavo pensando a come comunicare che i peccatori saranno distrutti. Quali altre parole vuole Dio? Ma la gente si appiglia a poche espressioni malintese e ci costruisce sopra una teologia, diventa completamente cieca rispetto alle prove e si concentra su ciò che vuole credere. Ora, ci sono alcuni passi difficili in cui si usa la parola nei secoli. La parola usata in greco è aeon. Avete mai sentito dire qualcuno non ti vedo da secoli? Aeon è un periodo non specificato di tempo, non ha un inizio una fine in sé. E il motivo per cui Dio usa quella parola è perché ogni peccatore brucia per un tempo diverso, a seconda di ciò che merita. Non potevo usare un periodo specifico. Ci sono altri punti nella Bibbia in cui troverete la parola nei secoli e ovviamente c'è una fine. Ricordate, per esempio, il tempo di Giona nel pesce viene paragonato all'inferno che Gesù ha passato. E quella citazione è in Matteo 12. Dice, Allora Giona pregò dal ventre del pesce e racconta la terra chiuse le sue sbarre dietro a me per sempre. È rimasto imprigionato per quanto tempo? Pensate che gli sembrò per sempre? Sapete che quello che Giona ha passato è un buon quadro dell'oscurità e della separazione da Dio. Eccolo nelle viscere del mostro marino, in fondo all'oceano. È buio e un giorno ho pensato che siccome lui era vivo, forse il pesce aveva inghiottito altre cose che si agitavano attorno a lui. Non è terribile. E poi, se mai avete fatto immersioni di notte, sapete che a volte alcuni pesci brillano per la loro luminescenza. All'improvviso una piccola luce, un polpo, una medusa. Deve essere stato un inferno lì dentro. Vero? Questo è ciò che racconta e pensate che si è durato per sempre. Tre giorni e tre notti nel sistema digestivo di un mostro marino. Ma non era per sempre. La Bibbia dice fu nel ventre del pesce per tre giorni e tre notti. E potete leggere in Esodo 21 un ebreu poteva avere un servo per sette anni e passato quel tempo si poteva procedere con un rituale in cui decideva di stare col suo padrone e dire lo servirà per sempre. Per quanto tempo? Finché non moriva, ok? E ancora quando Anna portò il piccolo Samuele nel tempio disse che l'avrebbe lasciato lì per sempre e vi rimanga per sempre. Quanto tempo era? Fino alla morte, per il resto della vita e più avanti specifica fino a che egli vive. Quindi quando si dice che i malvagi bruceranno per i secoli vuol dire la parola che è usata, non dimenticatelo, viene dal greco, aeon, eoni in italiano. Bruciano secondo quello che si meritano fino a che non moriranno, saranno puniti. E sono bruciati non solo col fuoco eterno perché non vivranno di nuovo? Non c'è una seconda possibilità? Si chiama anche fuoco inestinguibili e ci arriverò tra un minuto. Nei secoli dei secoli, un'espressione biblica che significa fino alla fine del tempo, non necessariamente una lunghezza di tempo infinita. Bisogna leggere l'affermazione del contesto. Ora, Donald Bernhaus, il teologo, quando ha esaminato il tema e per coloro che stanno guardando, se non l'aveste ancora capito, sono un avventista del settimo giorno. Ho cercato di non mostrarlo perché voglio che tutti si sentano a proprio agio, ma dobbiamo rimanere fedeli alla Bibbia, vero? Bernhaus dice non possiamo essere troppo duri con gli avventisti perché ci credono. Dopotutto Martin Lutero, il padre della riforma, ci credeva e lo stesso vale per William Tyndale e per uno studioso moderno che ha coinvolto il mondo intero, John Scott, che era un grande studioso. Anche lui credeva che la Bibbia fosse molto chiara sul fatto che i malvagi saranno consumati nello stagno di fuoco. Il pentecostale Edward Fulge ha scritto un libro che ha sorpreso tutti in cui ha detto che se ci si attiene alla Bibbia non ci sono dubbi sul fatto che i malvagi saranno bruciati nello stagno di fuoco. Ci sono molte persone là fuori che lo sanno e temono di dirlo perché è una cosa impopolare. Una storia veloce. Devono essere stati 25-30 anni fa. Guidavo la mia piccola Mazda GLC, una macchina giapponese per il Texas, verso la casa dove vivevo allora. Era alla vigilia di Natale, vedi una macchina ferma e accostai per vedere se avevano bisogno di aiuto. Un uomo disse non sono sicuro di cosa sia, le luci hanno iniziato ad abbassarsi, alla fine la macchina è morta. Io facevo dei lavori da meccanico. Gli dissi sembra l'alternatore e controllammo la batteria che era completamente a terra, l'alternatore non caricava, quindi cosa molto divertente perché guidava una grossa Oldsmobile del Texas o una cosa del genere. Trainai la sua macchina per diversi chilometri fino a casa nostra con la mia Mazda GLC. Ed era la vigilia di Natale, non avrei trovato e il suo alternatore aveva bisogno di spazzole nuove. Voi uomini sapete di cosa sto parlando? E non si poteva far nulla quella sera. Lo invitai con sua moglie e le sue due figlie a passare la serata con la nostra famiglia e iniziamo a parlare. Era un ministro battista, quindi volevo studiare. Iniziamo a parlare delle differenze di quello in cui credevamo e venne fuori questo argomento. E mentre condividevo con lui quello che ho appena condiviso con voi, diventò molto nervoso e sembrava un po' teso e disse, fratello Doug, disse, ho visto questi passi prima, mi sono reso conto che se ci si attiene strettamente alla Bibbia, è abbastanza chiaro che l'inferno non brucerà per sempre. E poi disse, se lo dicessi ai membri della mia chiesa non verrebbero più in chiesa. Fratello, è questo il motivo per cui vengono? Per l'assicurazione contro il fuoco? Per cercare di stare fuori dall'inferno? È vero, nella Bibbia ci sono alcuni avvertimenti che fanno riflettere sullo stagno di fuoco e volevo evitare. Forse potrebbe essere un punto di partenza per qualcuno ben predisposto, giusto? Voglio dire, la paura della distruzione, sappiamo tutti che è il motivo per cui non tocchiamo i serpenti assonagli, giusto? È autoconservazione, potrebbe essere un punto di partenza, ma da qualche parte durante il cammino se l'unica ragione per cui andate in chiesa e servite Dio a cercare di stare fuori dall'inferno, semmai doveste andare in paradiso, avreste perso la vostra motivazione. Durante il cammino bisogna imparare a farlo perché amiamo il Signore e lo conosciamo. E sapete l'altro motivo per cui questo argomento è così importante per me? È che prima di imparare la verità odiavo Dio. Non lo dicevo ad alta voce, ma nell'intimo del mio cuore pensavo che Dio fosse cattivo, che torturasse queste creature che sono peccatori fragili e deboli e che li torturasse fino alla fine dei tempi per i peccati della loro breve vita, perché era sadico. Questo era quello che pensavo. Quando ho imparato la verità della Bibbia sull'argomento è stato uno dei temi più liberatori che avessi mai studiato, perché mi ha aiutato a capire che Dio è giusto ed è solo amore. Numero 10. Cosa rimarrà quando si spegnerà il fuoco? Malachia 4.3, molto chiaro. Calpesterete gli empi, perché saranno cenere sotto la pianta dei vostri piedi. La Bibbia dice che quando i redenti andranno nella Nuova Gerusalemme, Dio avrà creato un nuovo cielo, una nuova terra. I mansueti riditeranno la terra. Se i malvagi sono bruciati dal fuoco che Dio manda dal cielo, si forma uno stagno di fuoco e brucerà fino a quando tutti saranno consumati. Non so per quanto tempo e chi pensate che brucerà più a lungo. E il diavolo? La Bibbia dice notte e giorno per i secoli dei secoli, che significa notte e giorno fino a che tutto sarà finito. E alla fine si apriranno le porte e usciremo. E sotto i nostri piedi ci sarà l'erba bella verde. E sotto l'erba ci sarà la cenere dei nostri persecutori. I malvagi diventeranno cenere sotto la pianta dei nostri piedi. Sarà quasi letteralmente così. Non ci sarà braccio per scaldarsi o fuoco a cui sedersi. L'abbiamo letto prima. E ancora un altro passo. Vi ho letto Giuda. Ora ascoltate cosa dice Pietro su Sodoma e Gomorra. E condannò alla distruzione le città di Sodoma e di Gomorra riducendole in cenere. In cosa le ha ridotte? In cenere. E le fece un esempio per coloro che in avvenire sarebbero vissuti empiamente. Perché ho iniziato questa storia di Sodoma e Gomorra? Perché la Bibbia dice che sono un esempio per tutti coloro che hanno qualsiasi domanda riguardo a cosa accadrà ai malvagi. È una sorta di combinazione tra Noè e Lot. Eccetto che invece di essere uno stagno di acqua è uno stagno di fuoco. Saranno annegati nel fuoco e il mondo sarà purificato dallo stesso fuoco. Numero 11. I malvagi andranno all'inferno sotto forma di corpi e saranno distrutti nell'anima e nel corpo? Sì, la Bibbia è molto chiara. Vi ho detto che l'avrei detto ancora. Gesù parla. Gli credete? Il Signore ha detto e non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può, ripetetelo con me, far perire l'anima e il corpo nella genna. Sembra una definizione da dizionario per me. Cosa succederà ai malvagi? L'anima e il corpo saranno distrutti all'inferno. Non ci sarà una parte o l'anima che vagherà all'infinito. E di nuovo Gesù ha detto in Marco 9,47 E se l'occhio tuo ti è occasione di peccato, cavalo. È meglio per te entrare in un occhio solo nella vita che averne due ed essere gettato nella genna del fuoco, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. Ora la parola usata qui per parlare del fuoco dell'inferno è genna ed è una delle parole che sentirete tra un minuto che vengono usate per l'inferno. Ci sono quattro parole principali. C'è Sheol, è la parola dell'Antico Testamento per inferno e significa tomba la maggior parte delle volte. Vuol dire tomba. Poi c'è Hades che generalmente significa tomba. Qualche volta si riferisce al luogo della punizione del mondo greco. Poi c'è Gehenna e Tartaro. Tartaro è usata una volta e significa luogo di oscurità. La valle di Hinnom, proprio fuori Gerusalemme, era una gola ripida e rocciosa, c'è ancora oggi. Non era un buon pezzo di terra per costruire o coltivare per la sua ripidezza. Inoltre un tempo avevano stabilito lì delle divinità pagane e quindi per dimostrare il loro amore per Dio avevano deciso di farla diventare la discarica della città. Quindi ci buttavano tutta la spazzatura. Gli animali impuri che morivano venivano buttati lì e c'erano probabilmente vecchi cesti e abiti laceri. Ho sentito che qualche volta i criminali, se qualcuno non pagava le spese, li buttavano nella Gehenna. Ecco perché cercavano di farla bruciare per tenere sotto controllo l'odore. Era piena di vermi e bruciava lentamente tutto il tempo. Qualcuno di voi ha mai vissuto in Texas? Sapete che ogni 10 miglia c'è il Texas è grande. Infatti quando si guida in Texas si legge il sole è sorto, poche miglia dopo si vede un altro cartello il sole tramonta, poche miglia dopo eppure sono ancora in Texas. uno stato grande. Ogni 10 miglia c'è una città e molte hanno una propria discarica e nei giorni quieti quando non c'è vento qualche volta si può vedere dove sono le città perché si vedono delle piccole colonne di fumo che vengono dalla discarica. Qualcuno ha bruciato la spazzatura, si è dimenticato che era ancora accesa, l'ha buttato nella discarica della città e tutta la discarica ha preso fuoco e brucia lentamente. Chi ci ha vissuto sa di cosa sto parlando. Questa è la parola che ha usato Gesù. Meglio andare in cielo senza un occhio, una mano o un piede che andare nella genna, nella discarica della città dove il fuoco è inestinguibile. E i vermi? Non muoiono, ok? E prosegue in Matteo 3,12. Pulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo grano nel granaio ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Oh Doug dice proprio qui che il fuoco dell'inferno non si può estinguere, che bruceranno per sempre. Non è quello che vuol dire. Leggiamo ancora Geremia 17,27, una profezia. Geremia disse che Nebuchadnezzar avrebbe distrutto il Tempio se non si fossero pentiti, non si pentirono ed egli distrusse il Tempio. Qui è proprio prima che accadesse. Ma se non mi ascolterete santificando il giorno di sabato, non portando pesi, non introducendoli per le porte di Gerusalemme il giorno di sabato, io accenderò un fuoco alle sue porte. Esso divorerà i palazzi di Gerusalemme e non si... cosa? Estinguerà. Gerusalemme e le porte sono bruciate da Nebuchadnezzar? Sì. Si è estinto? No. Ha bruciato fino a che non si è consumato tutto. Dio ci sta semplicemente dicendo che non ci saranno pompieri all'inferno per spegnere il fuoco. Farà il suo compito. Nessun mezzo artificiale potrà fermarlo. Va bene. Vediamo se posso spiegarvelo. Ok. Va bene. L'ho fatto con la mano sbagliata. Va bene. Sto bruciando. Sto bruciando questo fiammifero. Non lo spegnerò. Ah. Uh. Uh. Non lo spegnerò. Lo sto spegnendo? Mi sono rifiutato di spegnerlo. L'ho spento? brucia ancora? Cos'è diventato? Riuscite a vedere? È cenere. È stato bruciato con un fuoco inestinguibile. Qui voglio essere sicuro che si è estinto in modo da non dar fuoco a tutto l'edificio. È tutto quello che dice. Significa che nessuno intraprenderà un'azione per estinguere il fuoco. Completerà il suo operato. Non rimarrà nulla, nemmeno una radice, un ramo. Non ci sarà brace per escaldarsi. Nulla. Chiaro? Matteo 5,30 Gesù ha detto, è meglio per te che un tuo membro perisca piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella Genna. E continua dicendo, l'anima che pecca, cosa farà? Morirà. L'anima e il corpo sono gettati all'inferno. Ci va solo l'anima o la gente ci va anche sotto forma di corpo? Numero 12. Il diavolo sarà a capo dell'inferno? Cosa ne pensate? Vi fidate? Viene dalla mitologia greca ancora una volta il fatto che il diavolo abbia la forca e controlli che tutti si cuociano uniformemente girandoli ogni tanto ed è a capo. Vi fidereste del diavolo per assicurarsi che ognuno riceva la giusta ricompensa? No. Sarebbe come chiedere alla volpe di fare la guardia alle galline, è vero? È un sadico, non vi potete fidare. In realtà cosa ci dice la Bibbia sul destino del diavolo? Apocalisse 20,10. Allora il diavolo che le ha sedotte sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo. Satana sarà gettato all'inferno, non è a capo dell'inferno, ne ha paura proprio come ogni peccatore dovrebbe. L'idea che sia a capo dell'inferno è un'altra favola della mitologia greca. Che cosa si dice sul diavolo in Ezechiele 28? Ti ho ridotto in cenere sulla terra sotto gli occhi di quanti ti guardavano, continua dicendo, perciò ho fatto uscire di mezzo a te un fuoco che ti ha divorato e ti ho ridotto in cenere sulla terra sotto gli occhi di quanti ti guardavano. Tutti quelli che ti conoscevano tra i popoli restano stupefatti di te, sei diventato oggetto di terrore, non esisterai mai più. Se qualcuno merita di bruciare per i secoli dei secoli, chi è? Brucerà più a lungo e più al caldo possibile. Se tutti riceveranno una ricompensa diversa, allora ovviamente significa che ci dovrà essere una differenza nella durata o nell'intensità, siete d'accordo? E ovviamente ci potrebbero essere entrambe. Alcune persone bruceranno un po' più al caldo e un po' più a lungo, ma non bruceranno per sempre. Non ci sederemo sulle mura della Nuova Gerusalemme mangiando popcorn e guardare i cattivi che bruciano. Un'altra cosa. Pensate che il Signore eliminerà ogni affetto naturale? Sapete, è molto difficile per noi pensarlo, ma credo che la maggior parte di noi riconosca che ci saranno persone perdute che conosciamo e di cui ci interessa. E il Signore ama i peccatori? Ama i perduti? Dio eliminerà gli affetti naturali in modo che se abbiamo un coniuge, un genitore, un figlio o qualcuno di cui ci interessa nello stagno di fuoco possiamo dire, beh, poco male, sai che non ci interessa più nulla e brucerà per i secoli dei secoli. Ho parlato con alcuni pastori che dicono sì e diremo alleluia. E hanno questa idea distorta. Dio non prova piacere nel fatto che i malvagi siano perduti. Figuriamoci che soffrano per i secoli eterni. Apocalisse 20, 15. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Due sole scelte, amici, vita o morte. Vita eterna o morte. Libro della vita o stagno di fuoco. Due sole scelte, due sole strade. Spero che scegliate quella giusta. Abbiamo una baita, come ho detto, una baita nelle colline della California setentrionale. Non ci andiamo molto spesso ora, ma di sicuro ne sentiamo la mancanza. Ora, con la Casa d'Energia Solare abbiamo un po' di TV satellitare, ma per anni tutto quello che avevamo era una piccola radio. Riuscivamo a prendere poche stazioni perché eravamo in un posto sperduto, ma prendevamo una stazione radio cristiana. Sono qui in città, li ho ascoltati, ci sono da anni. C'erano dei programmi buoni, della buona musica, ma a un certo punto c'era uno speaker che interveniva troppo spesso in questa emittente cristiana e cercava di diffondere la Bibbia e rispondere a domande sulla Bibbia. E io ero lì sulle colline, a 20 chilometri di strada sterrata dal telefono più vicino, che ascoltavo la radio. Una madre chiamò e disse fratello tal dei tali. E sentivo dalla sua voce che qualcosa di grave stava succedendo. Disse mio figlio è morto la scorsa settimana, un incidente stradale. Beveva, non era cristiano, si è schiantato contro un albero ed è morto sul colpo. Ho bisogno di sapere dov'è. E lui cercava di eludere la domanda e lei disse no no no, voglio sapere se ora è all'inferno. E rispose beh, se non si è salvato, sì, starà bruciando all'inferno ora. E sarà il suo destino per l'eternità. Si sentì un suono strozzato e la donna agganciò. Ho iniziato a innervosirmi così tanto perché sapevo che non era vero e faceva sembrare Dio cattivo e questo mi dava fastidio. Poi chiamò una studentessa universitaria, praticamente la telefonata successiva, e disse fratello tal dei tali, io credo in Gesù e sembra così amorevole e buono e voglio accettarlo, ma se tortura l'oggetto della sua creazione per i secoli dei secoli, per i peccati di una vita, come potrò mai amarlo? Ed egli rispose beh, a chi siamo noi per mettere in dubbio Dio? Egli è Dio e fa ciò che vuole. E mi arrabbiai così tanto. Saranno state le otto di sera. Sono saltato in macchina. Ho guidato per 20 chilometri fino al telefono più vicino. Ho pregato per tutta la strada di prendere la linea perché c'erano chiamate da tutto il paese. Ho preso la linea la prima volta, ero occupato, ho pregato e ho digitato di nuovo. E all'improvviso una voce ha detto benvenuto al programma. Sei in onda. E non sapevo esattamente cosa avrei detto. Non avevo ancora pregato per questo. Ma sapete che Gesù ha detto in quell'ora lo Spirito Santo vi dirà cosa dire. E dissi, fratello Taldetali, sono un avventista del settimo giorno, volevo dirlo in modo che la gente dall'ascolto sapesse dove andare. Dissi, credo che la Bibbia insegni chiaramente che i malvagi saranno divorati dallo stagno di fuoco, saranno consumati, periranno, saranno distrutti. E dissi, posso condividere alcuni passi e inizi a citare tutti i versetti e alla fine devi avermi silenziato. Perché ascoltavo la radio a casa di questa persona, all'improvviso non senti più la mia voce. Iniziò a cercare di rispondere. Poi si fermò di nuovo per lasciarmi provare a ribattere a qualcosa che aveva detto. E dissi, beh, posso rispondere. Iniziò a rispondere con tutti i versetti. Alla fine mi tagliò. Non avrebbe preso più telefonate per i restanti 20 minuti di programma. E pregavo che la gente che aveva chiamato fosse all'ascolto, addolorata con un'immagine distorta di Dio. E sapete un'altra cosa? Pregai quel giorno sulla via del ritorno. Signore, fa che Dio voglia che un giorno abbia un programma alla radio in cui la gente possa chiamare e io possa dire la verità. E qui, grazie a Dio, ora ho un programma. Non è stupendo? Funziona. Dio ci ha benedetto. Ho quasi finito il tempo e ancora alcune domande. Numero 13. La parola inferno usata nella Bibbia, cosa vuol dire? Si riferisce sempre a un luogo dove si brucia o si è puniti? Abbiamo già parlato di questo molto velocemente. Ci sono quattro parole. Sheol, Gehenna, Tartaro e Hades. E di solito significano tomba. Tartaro vuol dire luogo dell'oscurità. Qualche volta Hades viene usato in relazione al luogo greco della punizione e significa luogo di punizione. Qualcuno mi ha scritto di Enrico e di Lazzaro. Cercherò di rispondere domani sera. Numero 14. Qual è il vero scopo di Dio nel fuoco dell'inferno? prendere anche coloro che non lo amano? Voglio dire Dio fa così. La Bibbia dice in Matteo 25 41. Allora egli dirà ancora andate via da me maledetti nel fuoco eterno che è stato preparato per coloro che non mi amano? No, il diavolo e per i suoi angeli. Se scegliamo di seguire il diavolo e i suoi angeli vuol dire che siamo suoi servi e meritiamo la sua ricompensa. Romani 6. Non sapete voi che a chiunque vi offrite come servi per obbedirgli siete servi di colui al quale obbedite? E se scegliamo di seguire e obbedire il diavolo è la sua ricompensa che condivideremo e Dio non vuole che abbiamo quella ricompensa. È per questo che Gesù è morto. Voleva salvarci a tutti i costi. E ancora in Apocalisse 29. Esse si muoveranno su tutta la superficie della terra e circonderanno il campo dei santi. Ma dal cielo scenderà fuoco mandato da Dio e le divorerà. Coloro che si uniscono a Satana nel suo salto finale alla città di Dio saranno divorati dal fuoco che scende dal cielo. Numero 15. L'opera di distruzione dei peccatori non è estranea alla natura di Dio. Certo, la Bibbia ci dice che Dio è amore. Non è vendetta o sadismo. Il Signore non vuole che qualcuno bruci per sempre. Dice così il Signore non volendo che alcuno perisca. Figuriamoci che bruciate per sempre. Non vuole nemmeno che voi periate. Vuole che viviate. Ecco perché vi ha creati. Ma tutti dovrebbero... Amici, se mi ascoltate stasera Gesù vi sta implorando. Il tema dell'inferno è molto reale. Reale come quello che ho qui. Sodoma e Gomorra, reale. Sono state distrutte. Lo stagno di fuoco è reale. I malvagi bruceranno secondo quanto meritano. Gesù è morto per i nostri peccati. Se non accettate il suo sacrificio per voi. C'è solo un'alternativa. Dovrete soffrire per i vostri peccati. È un pensiero spaventoso per me. Ricordate la parabola del creditore spietato in Matteo capitolo 18? Quando quell'uomo non accettò il perdono del re e non perdonò il fratello, il re disse, ok, allora riviro il mio perdono. Sarai tormentato secondo quello che devi. Ed è quello che succederà a coloro che non sfrutteranno al meglio l'incredibile sacrificio che Gesù ha fatto per farci vivere per sempre ed essere perdonati. Che sciocchezza. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la sua anima. Un altro passo che parla di perdere l'anima. Non si brucerà per sempre all'inferno. Ancora Isaia 28, 21. Poiché l'Eterno si addirerà per compiere la sua opera, la sua inaudita opera, per eseguire il suo lavoro, il suo lavoro insolito. È così lontano dal carattere di Dio distruggere la vita. Egli vuole creare la vita. Quanto di più è straneo al suo carattere torturare qualcuno per i secoli dei secoli. Quando vivevo nella mia caverna, cucinavo sul fuoco, avevo un gatto di nome straniero che era comparso un giorno e ha vissuto con me per un anno e mezzo e poi è scomparso. Prendeva i topi della caverna di tanto in tanto e sapete che i gatti sono un po' sadici, avete tutti dei gatti, sapete cosa voglio dire? Non li prendono e li mangiano solamente. Non vogliono che muoiano in fretta. Gli piace che muoiano lentamente e quindi li colpiscono e poi li lasciano andare e dicono non lo so di saltare via e quando iniziano a saltellare li offerano di nuovo e li mordono e li colpiscono un po' ma non li uccidono. Amano torturarli. E straniero aveva preso un ratto canguro, c'erano dei ratti canguro nella mia caverna, stavo cuocendo la cena e mi sono sentito così male per quell'esserino, ma i gatti devono mangiare. E quindi lo stavo colpendo, l'avevo visto fare cento volte, ma questa volta il topo era così disorientato che è saltato nel fuoco. Ma sentitevi! Sentitevi! No, sono serio! Guardate la vostra reazione. Non volete vedere un ratto bruciare, giusto? Se voi, peccatori egoisti e mortali, non volete vedere un ratto bruciare per tre secondi? Può un uomo mortale essere più giusto di Dio? Pensate che il Padre Celeste voglia vedere l'oggetto per cui è morto o torturato per i secoli eterni? Assolutamente no. La Bibbia dice in Ezechiele 33, 11, come è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, io non mi compiaccio della morte e dell'empio, moriranno, ma non si dice che bruceranno per sempre, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Poi Dio implora continuando, convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvace. Perché mai dovreste morire? Vuole che viviate. Ecco perché Gesù è venuto. Poiché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. E Giobbe pose una domanda, può un mortale essere più giusto di Dio? 16, quali sono i piani di Dio per la terra dopo l'inferno e per il suo popolo? Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo cosa? Nuovi cieli e nuova terra, nei quali abita la giustizia. Ora non perdetevi questo amici, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte. Quanta morte ci sarà? Né cordoglio, né grido, né fatica. Non dice solo per i salvati, dice che sta facendo un nuovo universo senza più dolore. Come può esserci da qualche parte una stanza delle torture in cui i peccatori bruciano per sempre se non ci sarà più dolore? Né fatica, né cordoglio, né pianto. Non renderà immortale il diavolo o i peccatori. Farà nuove tutte le cose. Amen? E io e voi dobbiamo permettergli di farci nuovi, poiché ecco io creo nuovi cieli e nuova terra dove regnerà la giustizia e le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente. L'avversità non avverrà due volte. Cari amici, se volete far parte del regno, la Bibbia ci dice in Apocalisse 20, 14, poi la morte e l'Hades furono gettate nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. Sapete, nascete una volta sola, ma morirete due volte. Se nascete due volte, morirete solo una volta. Nascere fisicamente puoi scegliere Gesù e nascere spiritualmente. Nascere due volte, morire una volta. Se nascete solo una volta fisicamente, morirete probabilmente di morte fisica e poi di morte spirituale, la morte eterna nello stagno di fuoco. Dio ha mandato suo figlio in modo che non dobbiate morire quella seconda volta. Alcuni di noi moriranno da vecchi. Ci addormenteremo in Cristo. Amen? Non temete quella morte, ma non vorrete morire la seconda volta e non vorrete far parte della seconda resurrezione, da cui non c'è scampo. Questo è un messaggio molto importante, perché è davvero un messaggio del Vangelo. Il Signore sta facendo appello al nostro buonsenso. Dice, voglio che voi viviate. Ci sono due scelte, morire o vivere per sempre. Scegliete la vita. Sapete, la Bibbia ci dice che il piano originale di Dio era che tutto fosse buono, buono, molto buono. Vuole che abbiamo la vita eterna. Lo vuole così tanto che ha voluto morire per darci la possibilità di vivere con lui per sempre. Non vuole che soffriate per i peccati, perché ha già sofferto lui. Che spreco se lui avesse sofferto per i nostri peccati anche noi lo facessimo. Si rivolge a voi oggi, amici. Dite, Signore, voglio accettare quello che hai fatto per me e vivere per te. Egli mi metterà alla sua destra, dove ci saranno delizie in eterno. È questo che volete, amici? Vi sta chiamando oggi a venire alla croce e accettare quel perdono. Vita eterna o morte? Queste sono le nostre scelte. Volete scegliere Gesù stasera, amici? Chi ci sta guardando, fate che sia la vostra preghiera. Chiediamoglielo ancora una volta. Padre nei cieli. Caro Signore, siamo così grati che Gesù sia venuto e abbia offerto così tanto. Ha sofferto per la miseria e la colpa dei nostri peccati in vita. Tutti i peccati che abbiamo commesso o potremmo commettere di tutta l'umanità e non riusciamo a comprenderlo. Sono stati riversati su Gesù. E, Signore, accettiamo quello che ha fatto per noi. Vogliamo abbracciarlo. E poi prego affinché possiamo essere trasformati dal tuo amore. Aiutaci a essere nuove creature ora, che possiamo avere corpi nuovi quando Gesù verrà e vivere in quella nuova terra. Signore, ti prego di operare i miracoli nella vita di ognuno di quelli che stanno guardando e ascoltando. Aiutali ad abbracciare la verità ed essere liberati mediante la verità, perché Gesù è la verità ed è nel suo nome che preghiamo. Amen.